Una novità tra le più interessanti e tra le più importanti del nuovo Premiere Pro CS5 è la possibilità di sfruttare i sistemi operativi a 64 bit. Rispetto al passato, questa novità introduce non solo il pieno supporto a sistemi operativi quali Snow Leopard in ambito Apple e Windows 7 a 64 bit, ma molto più importante è la possibilità di sfruttare a pieno tutto il quantitativo di RAM installato nella nostra postazione di lavoro. Ad esempio con Premiere Pro CS4 potremmo sfruttare al massimo 3 dei GB presenti nel sistema. Oggi con Premiere Pro, nel caso utilizziamo un computer con più di 4 GB di RAM, questi potranno essere totalmente utilizzati da Premiere Pro. Quindi ad esempio potremmo utilizzare 4, 5, 6, 7, 8 GB a seconda di quanta il nostro sistema operativo ne ha a disposizione. Questo è importante naturalmente in vista dei sempre maggiori formati in alta definizione che si stanno diffondendo. Oggi è possibile lavorare in formati in alta definizione anche grazie alle nuove camere DSLR, piuttosto che con i formati per il cinema in formato digitale RED. Per sfruttare al massimo quindi il 64 bit grazie a Premiere Pro CS4 è importante disporre di un sistema operativo a 64 bit, quindi Windows 7 o Windows Vista a 64 bit, oppure in ambito Mac Snow Leopard. Nel caso volessimo verificare il tipo di configurazione che stiamo utilizzando in questo momento con Premiere Pro, sarà sufficiente recarci sotto la voce Premiere Pro preferenze memoria per quanto riguarda il mondo Mac, piuttosto che dal menu modifica preferenze memorie per il mondo PC. Sotto la voce memoria potremo analizzare quanta rama installata in questo momento nel sistema operativo e quanta è disponibile per le singole applicazioni, oppure per le applicazioni della suite video nella loro totalità. Questa è una novità che riguarda non solo Premiere, ma tutte le applicazioni del video, della suite Adobe. Infatti, una novità che è presente per tutti questi software è proprio il supporto a 64 bit, non solo per Premiere, ma per tutti i software. Come potete vedere da questa grafica, la RAM installata in questo momento nel nostro sistema è 4 GB, la RAM riservata a tutte le applicazioni che non fanno parte della suite è di 1,5 GB, e la RAM disponibile per il singolo Premiere Pro è 2,5. Pensate al caso in cui magari abbiamo 8 GB di RAM, potrei lasciarne 1,5 GB al sistema operativo le altre applicazioni e i restanti 6,5 GB potrebbero essere affidati completamente a Premiere Pro. Non più quindi il limite dei 3 GB, ma tranquillamente tutta la RAM a disposizione. Quindi questo è un grande passo in avanti proprio per tutti coloro che hanno necessità di utilizzare formati in alta definizione oppure per il cinema digitale.